Buongiorno a tutti, ma che ne so, mi sono svegliato adesso, sono le 7.34, questa domenica 4 maggio, beh, io devo dire che, insomma, se si riesce, bene, oggi è una giornata decisiva, la sfida che potrebbe dare al Catania, lasciare al Catania il biglietto per la Serie A, per il terzo anno consecutivo, si gioca contro la Regina, qui allo stadio Massimilio, io che posso fare, devo soltanto dire, speriamo che ce la facciamo, nel frattempo è pronto il caffè, alla salute di tutti i tifosi, che non va la tazzulella, e che bella cosa, devo dire ragazzi, lo so, è un video di merda, ma sto morendo di sonno, io ho un caffè, e un saluto a tutti gli amici cadenesi e non, a tutti gli sportivi soprattutto, iniziamo la mattina bene, l'importante è pensare di questioned. A presto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.